Sì, siamo davanti alla prefettura di Campobasso. Il vertice è ancora in corso, dovrebbe finire a breve, iniziato alle 12.30. Il neoprefetto di Campobasso, Cappetta, ha incontrato i vertici dell'ASREM e delle altre autorità preposte a combattere la pandemia. Si è fatto il punto su quali strade percorrere. Le strade sono due al momento. Una è più specificamente sanitaria. Si tratta di intensificare la campagna vaccinale, anche seguendo le indicazioni che ha dato il Premier Draghi. Una delle possibilità è un maggiore coinvolgimento dell'Università. Il rettore dell'Unimol ha dato anche la sua disponibilità a mettere a disposizione spazi e forze per eseguire un numero maggiore di vaccini. L'altra direttiva è quella della sicurezza e dell'ordine pubblico. Bisognerà intensificare i controlli, ma non a tappeto. Il prefetto, lo sentirete dopo nel contributo che abbiamo raccolto, intende soprattutto controllare le zone dove ci sono più contagi. Allora, ascoltiamo insieme quello che ci ha detto e poi la linea allo studio. Prefetto, lei si è insediato due settimane fa. Prima impressioni sulla città di Campobasso e su tutto il territorio provinciale. Campobasso è una città assolutamente ben tenuta, pulita, con persone che ho visto rispettose del momento storico che stiamo attraversando. Quindi tutti con le mascherine, mantenendo le distanze sociali. Quali sono le priorità per questa provincia? La prima priorità è quella del contrasto alla pandemia che stiamo vivendo. Io vorrei che settimanalmente ci sia un confronto con i vertici sanitari, i vertici delle forze di polizia, anche per indirizzare in un modo più specifico e mirato il controllo del territorio. Perché se l'autorità sanitaria ci dice che ci sono dei territori particolarmente interessati dal fenomeno del contagio, sarà su quello che indirizzeremo soprattutto le forze di polizia. Prefetto, cosa si può fare sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata qui in Molise? Così da una prima impressione non ci sono grandi problemi di criminalità qui. Però essendo un territorio interno, abbastanza vergine, tra virgolette, bisogna preservarlo da possibili infiltrazioni di associazioni criminali molto più strutturate, e mi riferisco a quelle campane o del nord della Puglia. Soprattutto vanno visionate e monitorate il più approfonditamente possibile tutte quelle società che poi di fatto non esistono sul territorio, ma che hanno solamente una sede sociale apparente, ecco su quelle bisogna andare a scavare più in fondo per vedere se si tratta solamente di sedi fittizie o meno. Grazie a tutti.